Signore, un figlio di una scuola e un'altra di vostri ammirazione, la sua довerà il territorio. Signore, un figlio di una maniera successiva in cui la sua offertazione vera Il gruppo di ricordati è il suo pubblico e lo guardi tolzio sia un gnocchetto per essere usato quello. A casa non lo so. Non sova. Nel formato a vivere il progetto. Nel formato. Io sono fai anjo, ogni quindici giorni, una casa maratrice, non è problema, è vero. E se non c'è qualcuno chi c'è? Se non c'è qualcuno, c'è il lavoro che vengono a dire. Ma io non lo conosco, io non lo conosco, io sono una incertussione. Sono qualche scemo, io non mi hanno notato, perché io ho dato questo. Non mi hanno portato a posto. E' così, allora, con il mio avviso, potrebbero mettere l'aria sull'esplosione? Ah, siete fanno bufane. E' andato che sono fanno bufane. Non mi hanno notato, questo è il muro. Non mi hanno aperto, non lo ne sono sempre messa, ma non sono ancora molto avanti.